Sul sito web RaiPlay, la piattaforma di streaming on demand della Rai, è possibile avviare un appassionante viaggio nelle nuove proposte audiovisivi della nostra TV nazionale. Il sito offre un'ampia gamma di contenuti, tra cui serie TV, film, documentari e programmi TV di vari generi e tematiche. La selezione è abbastanza ricca, consente uno scrollamento facile e veloce grazie alla possibilità di filtrare le ricerche per categorie produttori e anno di produzione. Inoltre la piattaforma consente l'accesso a una collezione di programmi dei canali Rai che permette l'assunzione di un'ampia panoramica della produzione italiana. Il resto delle considerazioni nell'info box di questo video.